Bentornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. Il fronte freddo di origine nord-europea arriverà in Italia proprio nelle ore notturne e sarà accompagnato principalmente da aria molto fredda, tanto fredda da portare le temperature abbondantemente sotto le medie del periodo. Le regioni ad essere interessate dai fenomeni saranno in particolare quelle adriatiche, non escluso che torni la neve anche in alta collina. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 19 aprile. Nuvolosità sparsa al mattino, ma pochi fenomeni su entrambe le regioni, qualche debole rovescio sulla Puglia costiera. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento a partire dalla Puglia interna e sulla Basilicata, con possibili rovesci o temporali. In serata migliora ovunque, qualche piovasco sul Salento. Dalla grafica notiamo che le temperature saranno in brusco calo di 6-7 gradi rispetto a martedì, con valori molto al di sotto delle medie del periodo. Vento forte dai quadranti settentrionali, specie sull'Adriatico. Mari, Adriatico molto mosso, Tirreno e Ionio poco mosso. Da oggi un nuovo servizio gratuito, previsioni sul vostro telefono, aggiungendo dall'app Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo la nostra telespettatrice, Valentina Castellaneta, che ci regala lo spettacolo di colori al tramonto sul Golfo di Taranto. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero Whatsapp e all'email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.